La cosa più bella che ti accadrà presto qual è? Tagliamo, vediamo. La stella, allora una bellissima notizia, una bellissima energia in arrivo, qualcosa che secondo me ti è anche destinato e che ti renderà serena, felice. Riuscirai a sciogliere del ghiaccio o vicino a te o dentro di te e ci sarà un'esplosione proprio di gioia. Questa cosa bella ti renderà così felice che avrai voglia proprio di festeggiare. Poi sarai molto molto serena, quindi questa è una cosa proprio bella. Guarda nel tuo cuore se vuoi sapere che cos'è quella cosa, qual è la cosa che hai desiderato di più in questi ultimi tempi. Guarda, è una cosa che ti renderà proprio giustizia.